Radio Linea numero 1 presenta Lezioni di Cinese. E' con noi, come sempre, la professoressa Francesca Stangoni. Buongiorno! Buongiorno, anzi, nimen hao. Nimen hao, buongiorno anche a Freddy. Sono la professoressa, arrivano sempre più mails che la vogliono vedere. Sì, sono nuda. Nuda, ecco. Può confermare questa cosa? Confermo. Bene, bene. Tu esce, tu esce. È giusto? Ah, è giusto. Senta, però, come l'ha detto, sembrava veramente la famosa espressione italiana me qui unca. Sembrava, vabbè. Perché lei l'ha detto in questo tono. Per cui ripeti, Freddy? Tu esce, tu esce. Tu esce, tu esce. Questa è la benapoletà, però. È giusto. Allora, oggi parliamo un po' di sport, perché, insomma, mi sembra giusto il calcio, le partite. Sport, yon ton kwe. Yon ton kwe. Bravissimo. Yon ton kwe. Sembra proprio una cosa di carattere. Questi miei studenti mi stanno dando tante salite. Eh, grazie. Noi, se lei volesse, potremmo dargliene ancora di più, di soddisfazioni. Basta. Perché? Non cominciare subito. No, ha recitato delle poesie. Eh, ma sempre, ho capito. Quindi dicevamo sport e calcio in particolare? Ciò sai. Ti cio, ciò sai. Ti cio, calcio. Ti cio. Ciò sai. Incontro. Ciò sai. Beatrice, secondo me, qui è preparatissimo, perché lo savo che un sacco di gente mi ha detto se tu veramente vai in Cina spesso. Sì, sì, adesso partirò. Quindi dicevamo incontro di calcio. Per esempio, squadra italiana, Italy 2. Sì, perché abbiamo detto che noi siamo gli unici, no? Ah, c'è questo brava, brava Beatrice. Senza il guo già. Che facciamo eccezione. Come la ricordo questa cosa? Eh, sì, sì. Per cui Francia. Ripassino. Ricordate di Francia? Fa guo. Fa guo? Fredi si avvicinava. Germania, de guo. De guo. Italia, incezione. Italy. Brava Beatrice. Ah, adesso me la ricordo questa cosa. Cioè, a guo e mettiamo prima invece la lettera. Per questo io dico francese, nel senso di persona, aggiungendo ren, dirò. Fa guo ren. Bravissimo, Fredi. Beatrice, italiano. Italy ren. Bravissimo. Ah, vedi, non sei caduta neanche nel trabocchetto. Eh beh, no, scusa, io ho studiato. Io ti farei cadere nel trabocchetto con delle canne altissime a guzze. Invidia per chi è brava e studiosa. È bella, è mandare Beatrice all'ippodromo, no? Sai ma, chang? Lei ci sta prendendo in giro. Sono mesi che ci dice delle cose non vere. No, 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 non è vero. Guarda, leggilo anche tu, Fredi. Sai ma, chang? Sai ma, chang? Beatrice, ciù, sai ma, chang? Ciù, andare. E questo per l'ippodromo, ma poi potremmo giocare a bocce? No, bocce, no. No, non ci piace il bocce. Facciamo andare Beatrice a cavallo. Beatrice va a cavallo. Beatrice ci ma. Questo termine, ci, di cavalcare, si usa anche per la bicicletta. Wo, ci, z, sin, ci. Io vado in bicicletta, io cavalco la bicicletta. È più bello andare a cavallo, soprattutto più breve. A Fredi invece gli facciamo fare Judo. Il mio sport preferito invece, giocare a scacchi. Ah, gli scacchi sono i xian qi. Oh, vedi, io lo sapevo. Xian qi, quindi scacchi i cinesi, giunguo, xian qi. E poi le squadre fai il tifo. È vero, è vero. Facciamo per il Napoli, Napoli 2. Ok, poi tu Napoli. Gioca in casa. Eh, appunto. Grazie Francesca per essere stata con noi la prossima settimana. Rimanga professoressa. Si copra però. Ok. Grazie.